Eccoci qui, un pochino prima del solito, buona serata a tutti, anzi ormai buonanotte, mezzanotte meno un quarto, ma siamo stati in riunione con il governo, con il presidente Conte fino a un paio d'ore fa, poi il tempo di fare le ultime telefonate, di venire a casa, di prepararsi la cena come avrete fatto voi, adesso siamo qua a riepilogare un po' la giornata e anche qualche appuntamento di domani perché è una giornata tutto sommato importante. Tanto partiamo dai dati che vi abbiamo dato, anche oggi è stata una giornata difficile e pesante, abbiamo avuto parecchi morti, era in qualche modo atteso tutto questo, però evidentemente quando parliamo di vittime, di persone che non ci sono più, una preghiera per loro prima andare a dormire direi che è ovviamente non solo dovuta, ma è il motivo per cui tutti noi dobbiamo continuare a comportarci in modo assolutamente rigoroso e corretto. Poi abbiamo affrontato con il governo diversi temi, da un lato la riproposizione delle misure di distanza sociale che ancora per due settimane tutti noi dovremmo rispettare in modo rigoroso, in modo assolutamente rigoroso, dopodiché decideremo tutti insieme alla luce soprattutto di quello che ci daranno i medici, gli epidemiologi, la task force che lavora con il governo ma che lavora anche qua in Regione Liguria, che cosa potremo e cosa non potremo fare dopo il 14 di aprile. Ora l'importante per mantenere quel lievissimo trend di miglioramento, quella lievissima curva che gira verso il basso e ci consente di avere qualche letto in più di terapia intensiva, qualche letto in più di media intensità nei nostri ospedali, qualche refolo di riposo per tutto il personale sanitario, infermieristico, medici che lavorano ormai 6 giorni alla settimana, 12 ore al giorno. Occorre continuare della ragione per cui mi sono permesso di dire che era un atteggiamento sconsiderato quello che ho visto ieri l'altro mattina in via Sestri di persone che uscivano di casa. Nessuno ce l'ha con gli amici di Sestri, io amo via Sestri, è una delle vie più belle della nostra città, ci sono tante botteghe, ci sono tanti panettieri, ci sono tanti alimentari, ci sono tanti luoghi dove ci piacerebbe andare. In questo momento dobbiamo essere molto 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 rigorosi e evitare anche di indulgere quel piccolo piacere di uscire la mattina a fare la spesa, a comprare il latte fresco che è la nostra abitudine, possiamo farlo meno volte la settimana e questo ci aiuterà a farci andare la sera in conferenza stampa e dire che ancora una volta abbiamo terapie intensive a disposizione per chi ne avesse bisogno, che abbiamo letti nella media intensità di cura per chi ne avesse bisogno, insomma quel gigantesco sforzo che hanno fatto fino ad oggi i nostri medici per cercare di salvare e molto spesso ci sono riusciti, se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto il numero delle vittime sarebbe assai superiore, quello che abbiamo fatto fino adesso è stato riuscire a dare a tutti una cura appropriata e dall'altra parte riuscire in qualche modo piano piano a cominciare a intaccare la diffusione del virus che dipende solamente dalla nostra distanza sociale. Io stasera dopo aver parlato con il governo ho firmato anche due ordinanze che ritengo importanti per la nostra regione, le misure sono quelle, lo sapete, l'abbiamo già detto ieri e ieri l'altro, prorogate fino al 14 quindi bisogna stare a casa se non si esce per lavoro, non si possono portare i bimbi in giro a correre se non per motivi di salute, le persone tipo i ragazzini autistici, le persone che hanno difficoltà e che debbono farlo per ragioni di cura, tutti gli altri più stanno a casa e più stanno a casa soprattutto in questi prossimi 10 giorni e più facile sarà a partire dal 14 cominciare a ragionare un pochino di tornare alla normalità. Oggi ho firmato due ordinanze che secondo me sono importanti e altre forse ne aggiungeremo nelle prossime ore, si va verso la settimana di Pasqua, quindi ho chiesto ai sindaci di individuare al di là delle restrizioni poste dal governo tutti quei luoghi che potrebbero essere oggetto di assembramenti, che potrebbero invitare le persone a uscire di casa, il lungomare, le spiagge, gli scogli isolati, gli scorci bellissimi della nostra regione che devono rimanere deserti, devono rimanere chiusi, così come bisogna che sia chiaro che non si possono invitare a Pasqua le zie, i nipoti, i nonni, i fratelli, perché fare a casa propria un pranzo di Pasqua o un pranzo di Pasquetta equivale ad andare in giro al ristorante, perché i cluster in cui si diffonde l'epidemia non tengono ovviamente conto della parentela, non va solamente a infettare gli estranei, passa anche tra familiari e quindi ogni famiglia farà la Pasqua con chi vive in quella casa normalmente e su questo faremo in settimane insieme ai sindaci, al sindaco Bucce, sindaci dei capoluoghi, Scaiola, Caprioglio, lo stesso Bucci, Peracchini, insieme ai presidenti di provincia, un piano straordinario perché ci siano straordinari controlli in quel weekend di Pasqua in modo tale che si possa arrivare poi al 14 quando scadranno le misure del governo con una situazione auspicchiamo tutti di minor pressione nei nostri ospedali. Poi ho firmato un'altra ordinanza che ci consente invece di segno opposto di continuare a lavorare in alcuni cantieri che consideriamo strategici, penso al bisagno, penso ai lavori che aggiustano i lungomari della nostra città, ho chiesto alle concessionari autostradali per esempio di lavorare il più possibile nei cantieri autostradali, cioè di lavorare in quei luoghi dove abbiamo provato sulla nostra pelle l'insicurezza, viadotti, gallerie, le barriere fonoassorbenti che sono state tolte, ecco. Di fronte a tutto questo c'è bisogno invece secondo me in questo momento dove la gente non va in giro, non ci sono macchine eccetera eccetera di impegnarsi in modo straordinario per usare proprio questi giorni per recuperare il tempo perduto in decenni del nostro paese e lì si può lavorare con tutti gli aiuti. Gli aiuti che a partire da domani distribuiremo, anzi già stanotte stiamo distribuendo a tutte le associazioni dei datori di lavoro perché tra le cose buone che vi voglio dire oggi è che sono arrivati per ragione Liguria comprati da noi, trovati da noi, trovati dai nostri uomini, ringrazio Alisa, ringrazio soprattutto Liguria Digitale che ha fatto uno straordinario lavoro come centrale acquisto della regione, sono arrivate 3 milioni di mascherine negli aeroporti di Malpense e di Fiumicino. Quei 3 milioni di mascherine i ragazzi della protezione civile le stanno portando qua, le stiamo distribuendo ai datori di lavoro, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, le Confederazioni dell'Agricoltura, insomma tutti i datori di lavoro, il porto, le autorità portuali, la compagnia unica, tutta la gente che deve andare a lavorare per consentirci di continuare a mangiare le stiamo distribuendo, le associazioni di categoria si sono impegnate a distribuirle con grande rapidità già in questo fine settimana, 800 mila mascherine andranno ai lavoratori che tutti i giorni escono di casa e non possono stare in casa perché abbiamo bisogno di loro, avranno una piccola protezione dai loro colleghi e i loro colleghi da loro per poter lavorare con maggiore serenità, se si tengono le distanze talvolta non serve ma meglio averla che non averla e abbiamo deciso di fare questo sforzo e siamo riusciti anche a trovare sul mercato un buon numero di mascherine in modo tale che tutti i lavoratori possano averli, non solo ne sono arrivate di più perché altri 2 milioni arriveranno domani nei nostri magazzini della protezione civile che noi imbusteremo in confezioni da 2, da 3, da 4 per poterle consegnare a tutti i liguri in modo tale che tutti possano avere una mascherina, una mascherina chirurgica se usata per i pochi minuti che una persona deve uscire di casa perché non si può stare in giro se non si lavora a ciondolare in giro, può durare anche molti giorni, quindi le distribuiremo attraverso le farmacie, attraverso l'edicole, attraverso le protezioni civili dei comuni, quindi nella prossima settimana io conto che tantissime persone possano avere a casa una mascherina per essere più sicuri di loro stessi e degli altri quando escono di casa e in modo tale che si possa in qualche modo anche ottemperare, dare sfogo a un'esigenza che tante persone mi hanno segnalato e fino ad oggi è stato complicato anche perché da Roma ne arrivavano poche, quelle poche che arrivavano servivano al personale medico che ringraziamo tutti insieme, sia io che voi stasera come tutte le sere in cui ho fatto questa diretta perché mentre noi parliamo e stiamo sul nostro divanetto rosso che vi faccio vedere di casa, loro sono nei pronti soccorsi, nelle ambulanze, nei reparti di malattie infettive, nei reparti di terapia intensiva a curare i nostri malati e quindi di questo dobbiamo tenerlo ben presente. C'è un'altra cosa importante che vorrei dire, aumentano le squadre delle persone ovviamente che fanno i tamponi così come aumentano i test sereologici che stiamo facendo sulle categorie più a rischio, non solo, da lunedì tutte le persone che hanno fatto il coronavirus e sono guarite potranno anche con un nuovo sistema che si chiama Drive Test di cui vi daremo poi tutte le notizie meglio domani, dopodomani attraverso le varie ASL, potrete uscire di casa con grande attenzione, con la mascherina andare a fare il tampone per vedere se siete guariti e questo secondo me aiuterà moltissimo a tutte quelle persone che sono in casa, che aspettano un test e che molto spesso le nostre squadre non per mancanza di voglia, credetemi, né per inefficienza ma perché veramente la domanda è altissima, i malati sono tantissimi, la situazione è sempre di grande pressione, spesso ci vogliono giorni per accontentare tutti. Vi dico ancora una cosa che anche oggi sono lievemente calati i malati nei nostri ospedali e questa è una buona notizia perché vuol dire che ci sono più letti a disposizione di chi ne ha bisogno, in Liguria non siamo mai andati in affanno sulle terapie intensive, abbiamo sempre avuto un certo margine, anche questa sera era presente in conferenza stampa il dottor Grattarola che è il capo dei dipartimenti di emergenza e urgenza dell'intera Liguria, del San Martino ma anche dell'intera Liguria che ha ribadito lui stesso che tutte le persone che avevano bisogno di una terapia intensiva l'hanno avuta quando ne ha avuto bisogno. Certo si muore di coronavirus, è ovvio, è inutile negarlo, anzi abbiamo molti morti, noi abbiamo anche un'età della popolazione molto alta, quindi tanti nostri nonni e genitori sono in un'età in cui il coronavirus veramente fa molto molto male, però tutti loro hanno avuto una chance di avere una terapia intensiva anche nei giorni peggiori in assoluto. Poi settimana prossima aumenteranno ancora i posti letto, aumenteranno sulla nave che è pronta ad aprire il secondo modulo, aumenteranno in tutte le situazioni dove le persone fanno convalescenza, quindi dai nostri ospedali, anche oggi sono stati tolti dal tubo, cioè sono migliorate moltissime persone in tutta la Liguria e questo ci rende ovviamente orgogliosi della nostra sanità. Però tutto questo è possibile solamente se resterete a casa. Noi abbiamo previsto ovviamente controlli straordinari per questa settimana e la prossima, le due settimane che ancora restano di misure completamente restrittive, ci saranno polizia municipale, ci saranno poliziotti, carabinieri, guardie di finanza a controllare, ma soprattutto dovete essere voi a controllare voi stessi, a fare quello che ritenete giusto fare, il minimo indispensabile in questo momento difficile ed evitare di mettere a rischio voi stessi e gli altri e soprattutto tutte le persone che hanno lavorato in queste settimane per salvare tantissime persone nella nostra regione. Questo direi che è sostanzialmente il quadro della giornata, aggiungo solo che ovviamente con il governo abbiamo cominciato a ragionare anche di quando entreremo nella fase 2 della nostra vita, cioè quando piano piano di qua qualche settimana potremo cominciare a pensare di riaprire qualche cosa nella nostra regione, così come in Italia, ma lo dovremmo fare in piena sicurezza. Quindi verrà fatto una cabina di regia tra governo, regioni, professori, tutti coloro che si occupano della vicenda per cominciare a ragionare su che cosa sarà possibile aprire, con quali limiti di sicurezza, con quali strumenti di sicurezza, perché il futuro va preparato e va preparato bene. Già questa pandemia ci ha colto per certi aspetti di sorpresa tutti noi, il governo, le regioni, il mondo, perché in questo momento gli Stati Uniti d'America, come prima di loro la Cina, i più grandi paesi, i più potenti del mondo, sono stati sotto scacco del virus, quindi è chiaro che stiamo affrontando un'emergenza che ha dimensioni planetarie e per certi aspetti inimmaginabili, però bisogna cominciare a pensare al futuro lo stesso e quindi abbiamo chiesto al governo di cominciare a ragionare perché dovremo piano piano ragionare quando, tra settimane, non lo so, tra qualche mese, non lo sappiamo ancora, cominceremo a riaprire, le fabbriche, cominceremo a riaprire i bar, i ristoranti, il commercio, i negozi, è chiaro che non sarà come prima, bisognerà farlo con strumenti adeguati, bisognerà farlo con attenzioni particolari, bisognerà farlo attraverso l'utilizzo dei tamponi per conoscere la diffusione del virus nel nostro territorio, cosa che in Liguria stiamo già facendo, siamo pronti a fare, siamo pronti anche a mettere una nostra esperienza al servizio del governo per dare a tutti le cose che abbiamo in qualche modo imparato in questi difficili giorni. Allora, vi faccio vedere la finestra, come sempre, eccola qua, aspettate che arrivo, con il nostro bel palazzo della regione con il tricolore, ieri sera vi ho raccontato della peste di Manzoni, il giorno prima apro la finestra, tanto ormai è primavera, c'è un clima tutto sommato piacevole anche la sera, anche se la temperatura scende ancora un po', questo è il porto di Genova, quella è la lanterna e finché c'è la lanterna, siamo tutti tranquilli, lo aspettiamo insieme, sta per arrivare, eccola qua, eccola, avete visto la lanterna, avete visto il tricolore, ve lo faccio rivedere ancora, domani andremo ad accogliere le mascherine che arrivano alla Fiera di Genova, poi da lì le distribuiremo e cominceremo anche a impacchettarle per darle a tutti voi, così come poi lavoreremo con i sanitari, ci rivedremo con il governo per parlare delle misure economiche a sostegno delle imprese e poi lavoreremo anche tutto a fine settimana, ormai non ci fermiamo mai. Beh, con questo bellissimo scorso di Genova io vi do la buonanotte perché è mezzanotte, vi ho tenuto 20 minuti e saluto tutti, saluto anche la mia famiglia lontana come faccio sempre e vi auguro una bellissima serata per quanto ovviamente, come dire, la situazione sia difficile, ma un sonno sereno e ci vediamo domani con tutte le ulteriori notizie di giornata. Vi lascio sul panorama di Genova e del Palazzo della Regione a Tricolore.